Le immagini parlano da sole, siamo in una serra con decine e decine di orchidee provenienti da tutto il mondo. Siamo in Via D'Osso ad Asso con Mauro e Zane per presentare la seconda edizione di Orchid Show. L'evento organizzato da Asso incontra che si terrà domenica 25 giugno presso la sala consigliare del municipio di Asso. Esatto, seconda edizione dell'Asso Orchid Show, uno show ad ingresso gratuito dove potete trovare venditori che venderanno piante sia locali, quindi sia orchidee dal giardino, sia orchidee dall'avanzale, che orchidee speciali, quelle che arrivano per esempio dal Brasile, orchidee rare. In più potete vedere la nostra collezione di orchidee che sono speciali dalla Colombia, potete portare le vostre orchidee che hanno problemi di fioritura, che non fioriscono più, perché ci sarà SOS Orchidea, dove esperti di altre associazioni come AOCI, Alao, vi daranno una mano per imparare a stare bene l'orchidea in modo che fiorisca ancora. In più, se avete orchidee belle, che reputate veramente belle, potete portarle che verranno giudicate alle 4 dai giudici internazionali, che vengono da Roma. La prima edizione ha ottenuto un grande successo, quindi la seconda edizione sarà ancora più spettacolare con espositori provenienti da tutta l'Italia. Orchid Show, per il visitatore, sarà uno spettacolo per gli occhi. Esatto, esatto, perché ovviamente portaranno tante orchidee in fiore, quindi potete ammirare tutte le varietà di orchidee. Le orchidee hanno veramente delle fioriture completamente diverse, tante persone non pensano neanche che siano alcune orchidee, perché non assomigliano alla classica orchidea che vedete al supermercato o all'IKEA. Come nasce la vostra passione per le orchidee? La passione nasce da Zane. Zane è iniziato come tutti comprando alcune semplici orchidee nei negozi, e poi è rimasta sempre più incuriosita dalle varietà di fiori, dalla bellezza di alcune orchidee, e quindi si è appassionata sempre di più, finché ha conosciuto una persona che collezionava questo tipo di orchidee, che è stata tra l'altro una persona che ha scoperto alcune varietà in Colombia 50 anni fa, e quindi si è innamorata e quindi si è specializzata su questo tipo di orchidee. Tra le orchidee che curate con amore ve ne sono alcune davvero particolari, addirittura rarissime. Esatto, ci sono alcune varietà di orchidee che si distinguono dal colore del fiore, dalla forma dei petali e del colore del fiore, che sono veramente rare. Addirittura una non è stata raccolta 50 anni fa e portata in Inghilterra, e non esiste più nella vita naturale. Infatti stiamo aspettando che fiorisca, che faccia i semi, per poi donarli a un collezionista in Colombia che possa lavorare per introdurla. Le orchidee in questo momento le vediamo quasi in fiore, ma prima dell'intervista ci stavi dicendo che per Orchid Show saranno tutte fiorite. Sì, esatto, ce l'hanno promesso, ci hanno promesso che si apriranno tutte per lo show, quindi ci sarà un'intera parete di queste fantastiche orchidee. Per coloro che arriveranno da lontano a visitare Orchid Show ci sarà anche la possibilità di conoscere Asso con un tour guidato. Esatto, ci sarà una visita guidata, gratuito ovviamente, alle 3, che durerà un'ora per il Centro Storico di Asso. Lasciamo ora la parola a Zane per un invito rivolto a chi ci sta ascoltando, a venire domenica 25 giugno ad Asso per visitare Orchid Show. Tutte persone interessate, piante, per favore arriva perché è un spettacolo grandissimo. Arriva tutte le orchidee, tutta la varietà, per curiosità è un fantastico. Allora non ci resta che invitare tutti ad Asso domenica 25 giugno dalle 10 alle 18 presso la Sala Consigliare del Municipio per la seconda edizione di Orchid Show, lo spettacolo delle orchidee in fiore. Ringraziamo Zane e Mauro e tutti gli amici di Asso Incontra.